Un giorno prima di una data storica per la Juventus. Un iter frettoloso che ha travisato il campionato bianconero, se si disputerà o meno le tre strade che potrà percorrere per la scuola garanzia Sportconi. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Domani. Domani come cima coppi dalle sofferenze dei tifosi, che hanno vissuto una stagione sub giudice. Loro più di qualsiasi altro protagonista, più dell'allenatore che ha visto i giocatori giudicati dalle indagini, più dei giocatori che hanno aperto giornali e notizie e si sono trovati di fronte a notizie inquietanti. Più della leadership, più di chi si è dimesso, più di chi è arrivato. Domani è il giorno in cui la sentenza arriverà finalmente sulla questione del guadagno di capitale e dobbiamo ancora pensare perché tutto è stato così affrettato, sbagliato, intrecciato. Perché c'era la sensazione di aver visto una stagione distorta per la Juventus, perché non prendere queste decisioni, sulle plusvalenze e poi sui salari, a fine stagione? La corsa dello Sporting the Justice ha colpito il campionato bianconero perché la reazione psicologica era ancora forte e importante. Cosa accadrà domani? Domani allo Sport Guarantee College del CONI arriverà una decisione sulla legittimità giudiziaria delle decisioni del precedente grado. Sì o no, per chiarire, non c'è spazio per riduzione della pena, perché il collegio decide come detto sulla legittimità e non merito. L'udienza era prevista per mercoledì 19 aprile 2023, alle 14.30, dal presidente Gabriella Palmieri Sandulli. Davanti ai presidenti delle sezioni unite e del collegio ci saranno anche gli ex membri del Consiglio di Amministrazione di Juventus, Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Maurizio Arriva Bene, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, film prodotto da Kytlis Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. I possibili scenari. Tre possibili percorsi. Il primo è chiaramente la conferma dei 15 punti di penalità. Il secondo è che vengono rimossi e il terzo è che questo giorno della sentenza non ha fine, è anche possibile deferirli alla Corte federale d'appello e quindi un riesame del procedimento. Cioè, la Juventus sarebbe venuta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.